benvenuti a tutti oggi parleremo di un altro argomento molto interessante allora oggi vi andrò a spiegare in 10 piccoli step come settare in maniera veramente meravigliosa il windows 11 come sistema operativo quindi parliamo di sistema operativo di microsoft e di casa microsoft quindi il windows 11 andiamo a vedere come ovviamente i settaggi che si devono andare a utilizzare ad usare quelli che vi consiglio io da quando acquistate il pc quindi e avete appena comprato un notebook un fisso insomma un qualsiasi computer che abbia come stesso operativo le windows 11 quindi vi dico con questi dieci semplici passaggi come andare a settare il computer in maniera veramente egregia in modo da così proteggerci un pochettino perché se invece lasciamo il computer così per come inizializzato per come settano le impostazioni direttamente casa microsoft prende non dico che non va bene però siamo un pochettino più esposti al tutto insomma un po più pubblici quindi in questo senso io vi do un piccolo aiutino per renderci un pochettino per avere un pochettino più di privacy proprio quindi sono semplici dieci step andare a seguire ovviamente lo può fare chi ha acquistato il computer insomma da poco quindi è appena inizializzato e deve andare a settare di sana pianta come nuovo e lo può fare anche invece chi ha già acquistato il computer da anni e insomma non sapeva di questi settaggi che si possono andare a dare e andare a fare quindi lo può fare benissimo anche ora quindi seguite il video e vedete come viene settato benissimo windows 11 perfetto allora ammettiamo che questo è il vostro windows appena quindi acquistato il computer appena inizializzato quindi che significa che il computer vento ogni volta che acquistiamo noi un notebook un fisso insomma un qualsiasi tipo di computer danno una preinstallazione quindi basta accendere il computer e seguire le istruzioni quindi per andare a fare le cose basilari quindi andare a mettere un pin una password dal computer un nome utente un email insomma questi dati semplicissimi però una volta che compare proprio la prima schermata che sarebbe questa qua di windows cosa si va a fare perché già al computer sembrerebbe più che pronto già all'uso allora è così il computer si potrebbe già usare si può usare però io vi consiglio di andarlo a settare seguendo questi dieci step quando dicevo poc'anzi in modo a rendere un pochettino il vostro profilo un po più privato rispetto a quello invece che configura già di suolo in default windows quindi intanto facciamo una piccola parentesi diciamo che ogni volta che acquistiamo le di computer ormai non vengono più dati ma questo succede da molti e molti anni non vengono più forniti i famosi dischetti di ripristino quindi significa che tutto il sistema operativo che noi abbiamo acquistato nel computer quindi il classico windows 11 home windows 11 professional quello che sia che da insomma microsoft con l'acquisto del pc praticamente non l'abbiamo più fisicamente al disco quindi significa che all'interno della disk esisterà una cosiddetta chiamata partizione quindi una piccola un piccolo pezzettino dell'hard disk di spazio la visca è destinato al sistema operativo ed è messo lì dentro però se si guasta questa hard disk e noi perdiamo un sistema operativo punto di domanda la risposta è sì ovviamente se si guasta l'hard disk e dato che all'interno ci sono i nostri dati più questo famoso piccolo spazietto dove è incluso il sistema operativo che noi abbiamo acquistato assieme al pc verrà perso quindi primo consiglio basilare che do io assolutamente che dovete fare proprio quando finite di vizializzare la vostra macchina è quello di andare a estrapolare il seriale del vostro sistema operativo che avete acquistato quindi che non avete però da nessuna parte in modo che se un domani si dovesse guastare il vostro hard disk benissimamente potete andare a comprare un nuovo hard disk e a reinstallare il nuovo sistema operativo originale quindi per fare ciò cosa dobbiamo prendere da internet un semplicissimo programma che è sempre gratuito come piace a noi che fa questo lavoro il programmino si chiama chi fan finder quindi andiamo ad aprire una pagina internet per scaricarlo e nella barra andiamo a scrivere chi quindi ho scritto ok finder scritto finder tutto unito e diamo un colpo di invio il sito dove dobbiamo andare a reperire questo file è il primo quindi magical gilly bin quindi clicchiamo con il mouse e scorriamo la pagina sino giù per il download ovviamente in versione free a noi della versione a pagamento a quasi 30 dollari non interessa nulla non interessa soltanto reperire il sistema operativo nostro quindi andiamo a cliccare sul download free sulla colonna free quindi download clicchiamo ha scaricato tutto il programmino quindi in questo caso aspettiamo che dice apri file perfetto possiamo chiudere il tutto il programmino lo troveremo nella cartellina download in questo caso quindi download qua c'è il key finder quindi me lo trascino sul desktop faccio taglia incolla e me lo trascino sul desktop ecco qui il programmino che voi vi ritroverete dobbiamo estrapolarlo sempre dal famoso in rar quindi estrapoliamo tutti e 3 1 2 3 e li trasciniamo fuori nel desktop questo può essere cestinato tranquillamente perché non serve più è il programmino che dobbiamo andare a utilizzare praticamente è questo di qui con quest'icona quadrata con il classico scudetto quindi facciamo il doppio clic diamo la conferma di sì e si aprirà questa finestra questa finestra prende e vi dirà il tipo di windows che avete montato voi e soprattutto vi dirà anche il cdk quindi sarebbe proprio la chiave unica che parterrà soltanto a voi quindi il seriale che voi dovete andare anche a stampare quindi andando su file potete o salvarlo con save as perché il programma purtroppo in inglese però è semplicissimo o print che significa stampa quindi vi consigliere di stamparlo e lasciarlo prende custodito sempre su qualche cosa cosa chiave il vostro seriale in modo pronto da poterlo reinserire ogni qualvolta vi si danneggerà insomma l'ar disk questo per quanto riguarda la prima cosa immediatamente che dovete andare a fare quando andate ad acquistare un nuovo computer allora non dobbiamo andare a fare altro sempre che andare a lavorare nelle impostazioni del sistema operativo quindi queste impostazioni saranno sempre ripetute più volte ma non sono mai uguali quindi attenzione massima attenzione clicchiamo su start impostazioni quindi questa rotellina perfetto vi si aprirà questa schermata in questa schermata noi dobbiamo andare come prima impostazione sull'account quindi vocino a sinistra account clicchiamo dentro le tue info quindi la prima e qui dobbiamo fare come per come prima cosa andare a passare da un account logato con la classica email in alto troverete la vostra e mail dobbiamo passare da un account logato con un email ad un account invece locale perché io consiglio sempre di passare ad un account locale perché vi arriverebbero troppe troppe pubblicità e troppe diciamo notifiche sulla vostra email quindi è sempre meglio andare a lavorare con un account locale per intenderci il vecchio nome cognome che è dato al pc che può essere utente user quello che che sia quindi in questo caso andiamo a cliccare in uso noi su accedi con un account locale basta fare accedi con un account locale in questo caso questo dobbiamo mettere ignora questo passaggio in questo caso dobbiamo andare su successivo e dove inserire il pin che precedentemente noi abbiamo praticamente dato al nostro computer in fase di inizializzazione se l'avete messo sono l'avete messo direttamente lui vi farà settare il tutto quindi in questo caso io dato che l'avevo messo praticamente lo vado a reinserire perfetto in questo caso diamo il nome utente al nostro computer quindi quello che volete voi potete scegliere io metto il mio e possiamo andare inserire anche alla nuova password conferma password insomma quello che serve se non volete nessuna password non inserite nulla andiamo su successivo e clicchiamo su disconnetti e chiudi quindi in questo caso con il primo step siamo passati da un account quello con email ad un account invece locale quindi consiglio sempre per evitare di farvi arrivare tutte queste mail passare sempre ad un account locale come secondo step invece dobbiamo sempre andare a start impostazioni quindi questo sarà sempre una cosa basilare questa volta ci spostiamo sulla personalizzazione clicchiamo andiamo su start quindi andiamo a cercare la vocina start in basso ci clicchiamo dentro e andiamo a togliere le spunte quelle che insomma si desidera nascondere quindi in questo caso mostra le app aggiunte di recente le andiamo a togliere perché non servirà a nulla poi mostra le app più usate teniamo sempre disattivato perché non servirà a nulla mostra elementi aperti di recente e direi di andarla a togliere così nessuno sa quello che abbiamo aperto di recente andiamo a togliere questa spunta di qua andando in basso invece non c'è più niente quindi presenti ora non dirò più start impostazioni perché sarà sempre questa la schermata quella che andrà e che andremo ad aprire come terzo step invece noi dobbiamo andare a togliere casomai la sospensione dello schermo che può essere sempre fastidiosa quindi in questo caso per togliere la sospensione dello schermo non dobbiamo fare altro che recarci sul sulla barra di ricerca e andare a scrivere risparmio quindi risparmio e lui già apre modifica combinazioni risparmio energia clicchiamo e qui andiamo a disattivare se volete insomma sciupare meno batterie ovviamente lasciate alla sospensione da mai a 5 minuti 10 minuti significa che lo schermo viviente diventerà nero con l'alimentazione per esempio la tolgo sempre però in generale o la tolgo sia batteria che ad alimentazione perché magari c'è gente che e poi si dimentica che il computer è acceso chiude magari rimane acceso insomma ore 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 questo computer senza sapere invece che se ne andò soltanto a sospensione o disattivazione schermo quindi effettivamente il computer sembrerà spento perché risparmia così molta batteria quindi io di solito li tolgo tutti questo comunque sarà una cosa che non è vitale per la privacy è soltanto una cosa di comodità a vostro piacimento dopodiché come quarto step andiamo sempre su start impostazioni quindi ci ritroviamo sempre in questa famosa schermata andiamo sulla vocina personalizza andiamo su temi poi andiamo su impostazioni delle icone sul desktop e qui voi potete andare a trovare tutte le icone che di solito non si ritrovano potete andare inserire detente sul next quindi se cliccate sul computer vi troverete sul computer liconcino originale senza collegamento quindi quella che vi permette di fare molte più cose per intenderci direttamente sul desktop lo stesso vale se volete il pannello di controllo quindi basta inserirlo qui e dare applica ok quindi tutte le icone che volete le potete andare a flegare fare diventare celestine e mettere applica ok in questo caso quindi ammettiamo che è stato fatto possiamo passare già al quinto step dobbiamo andare sempre sulla vocina personalizzazione però questa volta andiamo sulla barra delle applicazioni quindi spostiamoci giù e troveremo barra delle applicazioni ci clicchiamo dentro e qui possiamo andare a togliere quelle fastidiose sotto icone che noi troviamo qua sotto per intenderci queste di qui quindi chi non vuole tutte queste icone qua sotto perché non lo utilizza può andarla a togliere utilizzando quindi questa procedura quindi start impostazione personalizzazione barra delle applicazioni e nascondiamo quelle che non interessano io nascondo l'attività perché non mi interessa già vedete che l'ha tolto non mi interessa la chat la vado a nascondere già la toglie come vedete e il widget a me non interessa quindi lo vado a togliere pure quindi in questo caso io vado a togliere tutte queste cose qua si restringe il campo per utilizzare altri programmi quindi questa è un'altra cosa insomma che la gente chiede come andare a togliere tutte le icone qua dalla barra degli strumenti ovviamente le togliamo insomma fino a quando poi non decidiamo di vederle di nuovo di volerle di nuovo quindi andiamo a cliccare sempre qui li attiviamo di nuovo quindi questo per quanto riguarda il quinto step per quanto riguarda il sesto step andremo sempre su start impostazioni la vocina account per andare su opzioni di accesso quindi andiamo a cercare la vocina opzioni di accesso in questo caso ci metteremo su password perfetto e qui inseriremo noi o una password o un pin questo è importante per il computer quindi per avere una sicurezza maggiore quando accendiamo il computer quindi se già non vi è stato chiesto prima di inserire il pin una password di solito chi compra il computer nuovo lo chiederà sempre a inizializzazione del windows invece magari già al computer è messo magari da un anno che non l'ha messo magari i precedenti sistemi operativi non non prevedevano questo inserimento a diszializzazione del windows potrebbe andare ad aggiungere una password o un pin seguendo queste istruzioni quindi andando sulla vocina password aggiungendo un pin o una password andando semplice a spostare nella vocina invece privacy e sicurezza praticamente quindi questo è il settimo step andremo a utilizzare la vocina praticamente per sviluppatori non vi preoccupate anche se non siete sviluppatori perché è una cosa semplice quindi andiamo nella vocina sviluppatori clicchiamo dentro e dobbiamo andare a attivare la modalità sviluppatore questa ve la consiglio sempre quindi attivare immediatamente la modalità sviluppatore e diciamo di sì in questo caso significa che possiamo installare qualsiasi app nel pc che appartiene anche a fonti esterne quindi non soltanto quelli dal market di windows se no se dobbiamo installare per esempio come poco fa un programmino che dobbiamo andare a reperire una chiave da internet o qualsiasi altra cosa magari può dire che può dare dei problemi a scaricare quel tipo di programma anche se è gratuito o a pagamento quindi in questo caso con la modalità sviluppatore non andremo a scaricare anche da fonti esterne da quelle di microsoft proprio dal negozio di microsoft e passiamo all'ottavo step quindi andando sempre su start impostazioni privacy sicurezza sempre andiamo sulla famosa cronologia attività quindi andiamo a cercare cronologia attività eccola qua e diamo un click in questo caso io vi consiglio sempre di nascondere le spunte quindi quelle che riguardano la cronologia attività quindi non archiviarla in questo dispositivo perché non ha senso che magari chi utilizza un'altra persona un computer debba sapere insomma la nostra cronologia otterità di quello che facciamo di quello che apriamo quindi consiglio sempre di andarlo a disattivare così non verrà più salvata la cronologia attività se magari è stato fatto su un computer che già ha degli anni andiamo a cliccare sul tastino cancella cronologia dando la con il tastino cancella quindi va a eliminare tutta la cronologia sino ad oggi infine andiamo all'ultimo punto non per questo meno importante andando sempre su start impostazioni privacy sicurezza che già ci siamo e dobbiamo andare a cercare autorizzazioni di ricerca quindi andiamo in basso e qui abbiamo autorizzazioni di ricerca clicchiamo dentro e qua dobbiamo nascondere tutte le spunte che non si vogliono per esempio il primo punto dove c'è ricerca sicura lo lasciamo normale non cambiamo nulla su moderato ricerca contenuta del cloud in questo caso per esempio vediamo account microsoft dirà consente a windows search di fornire risultati delle app e dei servizi a cui hai seguito l'accesso no perché l'account microsoft windows deve sapere le mie cose a cui ho effettuato su cui ho effettuato l'accesso no lo disattiviamo lo stesso vale per l'account aziendale quindi sempre noi non dobbiamo consentire di dire a microsoft qual accessi noi effettuiamo negli account quindi disattiviamo anche il secondo quindi l'account aziendale o dell'istituto di istruzione la cronologia di ricerca abbiamo detto le cronologie evitiamo sempre di renderle attive quindi andiamo a disattivare anche la cronologia stessa in questo caso possiamo ricliccare se non siamo sicuri di cancellare la cronologia del dispositivo in questo caso cliccando non mi si attiva perché poc'anzi già l'ho cancellata poi c'è ulteriori impostazioni mostra evidenziazioni della ricerca quindi visualizza i suggerimenti di contenuto nella casella di ricerca nella home page di ricerca questa possiamo anche disattivarla completamente quindi con questi piccoli passaggi ovviamente ora già possiamo chiudere con questi piccoli passaggi abbiamo quindi visto che possiamo un pochettino dare un po di più privacy alle nostre impostazioni invece che windows non dall'inizio inizializzando un computer perché per loro vanno bene queste imposti questo tipo di impostazioni non è che chissà cosa cambia però è sempre meglio insomma nascondere le cronologie non nascondere non fare vedere le cronologie non dire a microsoft dove andiamo cosa facciamo cioè troppi dati insomma che vengono tirati fuori o anche per esempio far arrivare tenere l'account online quindi far arrivare tutte queste pubblicità comunque arriveranno poi sull'account posto di registrazione che possa essere otto mail o un account microsoft quindi perché se si può creare benissimo un account locale che è perfetto e che fino a ora si è sempre utilizzato un account locale con un normale nome che può essere a demi inutente o in copallino per esempio 2023 perché siamo nel 2023 quindi potete andare a utilizzare voi prende tutte quelle accortezze che vi ho detto sono dieci passaggi insomma semplicissimi andando sempre sulle impostazioni e sulla privacy del vostro windows 11 quindi il video ovviamente può essere seguito da tutti quindi da odia che ha acquistato un computer a maggior ragione da chi ha appena questo non compito perché viene molto più semplice o da persone insomma che hanno già il computer da qualche annetto potete sempre se avete windows 11 andare a utilizzare questo tipo di settaggio sempre se volete se non lasciatelo così per come io consiglio comunque di farlo spero insomma di essere stato sempre utile vi saluto e sicuramente ci vedremo al prossimo video ciao a tutti